Eccoci pronti a partire, fermate tutte le macchine, le staffette sono pronte ecco la prima 500, ecco nella seconda c'è un pezzo di Roccaforte del Greco Stelitano Rocco e Mimmo Iaria, eccoli, eccoli con la loro 500 eccoli qua un pezzo di Roccaforte del Greco, la seconda 500 adesso passa, batte la macchina battistrada, guardate allora, pronti ecco la macchina, la macchina che fa da battistrada non vi preoccupate, caccia faccia, sfileranno sulla lungomare Italo Falcomata eccoli partiti eccoli qua eccoli partiti provate a contarli ecco anche Edoardo Lamberti Castronuovo tra gli spettatori la mitica 500 gialla il giallo indiano vai con un'altra 500 Abarth beh questa è una 500 Abarth ma nuovo nuovo tipo questa dovrebbe essere la bianchina la famosa bianchina di Fantozzi quella la ricordiamo con il portapacchi comunque la bianchina poi adesso vai con tutte le 500 bella ma senti questa non l'avevo vista schierati ecco che salutano un attimo di pausa